Torna domenica 4 ottobre a Chiavenna il D della Brisaula, l'appuntamento dedicato al prodotto più rappresentativo della Valle del Mera, arrivato alla sua quarta edizione. A presentarlo il presidente della provincia di Sondrio, Luca Della Bitta, nella sua veste di sindaco della città. È una delle principali manifestazioni della nostra città che quest'anno raggiunge la sua quarta edizione e mette al centro, potremmo dire, la regina del nostro territorio. Quindi la Brisaula di Chiavenna, che ha una lunga storia ma soprattutto riesce a rilanciare ogni volta. Abbiamo nuovi produttori che quest'anno potranno mettere in vetrina i loro prodotti, la qualità, il loro lavoro e il loro impegno. È un modo per promuovere la nostra cittadina nella logica di una città che è anche città slow e bandiera arancione, quindi capace di legare le eccellenze del territorio alle proprie caratteristiche anche da un punto di vista enogastronomico. Una grande manifestazione che ci auguriamo, come gli altri anni, possa trovare la soddisfazione di chi ci verrà a trovare. Tra le altre cose abbiamo scelto di targare questa iniziativa come una città a misura di bambino e di famiglie. Quindi all'interno del programma sono previsti momenti specifici per i più piccoli, per le famiglie, proprio perché a loro vogliamo dedicare un'attenzione particolare. Ricco come sempre il programma, con tante iniziative a misura di bambino, dal truccabimbi al laboratorio didattico sulla Brisaula, alle lezioni di cucina, alla possibilità di suonare con le Guggen Band, le bande svizzere, che anche quest'anno animeranno con la loro musica la Kermess, che festeggia un'edizione ancora più ricca, come spiega Filippo Pighetti del Consorzio Turistico Val Chiavenna. Le novità sono tantissime, a partire dai nostri produttori di Brisaula della Val Chiavenna, ben 15 saranno quest'anno, infatti sulla scia dell'entusiasmo e della riscoperta di questo prodotto tradizionale di territorio, quest'anno saranno con noi tre nuovi giovani produttori di Brisaula, che domenica a 4 ottobre, a partire dalle ore 11, accoglieranno tutti i turisti, nelle bellissime cortili e delle dimore dei palazzi signorili del centro storico di Chiavenna, per una giornata di degustazione e vendita, fino alle ore, quindi 18. L'accompagnamento musicale, come tradizione da qualche anno a questa parte, sarà accompagnato dalle famose Guggen Band ticinesi, le mitiche Guggen Band che animano i carnevali di Bellinzone e di Lugano. Anche qui abbiamo quattro riconferme come Guggen Band e una grande novità, gli amici della Fenice, una Guggen Band molto numerosa, quindi è qualificata. La numerosa presenza dei gruppi musicali della Confederazione ilvetica conferma il legame tra Chiavenna e vicini d'oltre Alpe, una risorsa per il nostro territorio. Crediamo che questo asse con la Svizzera, con i nostri amici vicini, sia determinante. Lo dimostrano le continue presenze di visitatori e turisti da oltre confine e per noi è certamente una questione su cui lavorare e su cui spingere, soprattutto da un punto di vista del ritorno turistico. Le presenze di queste band hanno animato anche le scorse iniziative e quindi crediamo che sia una formula vincente da riproporre.